buonasera buonasera ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video premetto che nell'ultimo periodo sono un po' assente perché la mia voglia e ispirazione di creare nuovi contenuti si è un po' persa in questo mondo tanto grande insomma tutti noi abbiamo dei periodi in cui siamo meno ispirati per questo il video di oggi sarà un video molto semplice non sarà nulla di particolarmente innovativo e quasi non lo chiamerei roleplay insomma oggi vorrei realizzarti il trucco che ho appunto realizzato prima a me stessa e quindi sarà una specie di roleplay ma senza che io reciti l'amica o la sorella o una truccatrice semplicemente sarò a me stessa così semplifico un pochino il lavoro a me stessa ma comunque creo qualcosa di piacevole e rilassante per voi perché ci tengo ad essere presente e continuare a farmi vedere e rilassarvi nonostante tutto allora mi raccomando seguitemi su instagram lì sto cercando nell'ultimo periodo di fare qualche storiella un pochino più reale come se fossi un'amica voglio avvicinarmi un pochino di più alla mia community e seguitemi anche su patreon che vuole supportarmi maggiormente e ricevere contenuti più esclusivi e nulla vi aspetterò noi possiamo iniziare con il video di oggi con il tema di oggi allora oggi ho un trucco molto semplice come potete vedere con l'accento più che altro sugli occhi perché ho disegnato un eyeliner nel complesso molto naturale però abbastanza come vedete come dire visibile ho spento il cellulare che era lontano ma presumo che sia il colpevole dei rumori che avete sentito nell'orecchio in uno dei due è molto fastidioso e il microfono essendo sensibile capta tutti i rumori anche a livello magnetico e poi li riproduce purtroppo quindi lo spendo nella speranza che non ripeti più questi rumori fastidiosissimi quindi oggi il trucco è leggero ma con questo tocco cattaro sugli occhi allora allora guarda io ho qui con me tutti tutti i miei trucchi è un po' diciamo caotico il tutto non in un super super mega ordine purtroppo infatti vorrei acquistare un altro astuccio per i miei trucchi e dividerli in pennelli, matite insomma un sacco di roba ma per ora tutto si trova qua dentro in questa borsettina ormai andata perché non è nelle condizioni migliori fatica quanto pesa mi affoggio un pochino sul braccio perché è veramente pesante facciamo un po' il tapping qui c'è tutto in più fondotinta, correttori gel per le sopracciglia eyeliner rossetti, matite labbra un sacco di pennellini pennelli, spugnettine spugnette insomma un sacco di roba allora mi sono appena ricordata che la spugnetta che io ho utilizzato per stendere perché il fondotinta sul mio viso si sta asciugando sul termosifone nell'altra stanza quindi utilizzerò un pennellino per te spero che ti vada bene però di solito io utilizzo la spugna un pochino umida la preferisco sinceramente perché mi dà un effetto come dire più natural più naturale rispetto al pennello a segno allora ho utilizzato due fondotinta uno della Yves Rocher e l'altro della marca Rimmel allora quello della Yves Rocher è nella colorazione 0,25 mentre quello Rimmel è nella colorazione 303 Juno Nude allora questo è il fondotinta che io utilizzo d'estate su pelle abbronzata mentre questo è quello che io utilizzo d'inverno però questo fondotinta qui è un pochino troppo bianco su di me cioè mi fa la pelle veramente molto chiara e quindi lo mischio ad un goccettino di questo fondotinta qua un po' più scuro ok quindi li utilizzeremo tutti e due lo mischio qui sulla mano prendo un pochino lo mettiamo qui e anche l'altro e lo vado ad applicare con il mio pennello da fondotinta prima lo trovo e poi iniziamo allora prima lo trovo meglio è allora il pennellino è questo qui di bella in birra è un pennellino con un taglio netto così non so come si chiama gabuki forse che è un periodo utilizzavo solo questo ormai a tanti anni penso attorno ai 4 anni sì sì ok allora prendo un pochino di fondotinta dal braccio lo mettiamo e te lo vado ad applicare prima su una guancia e poi sull'altra adesso su labrote su labrote su alimento sull'acino un pochino anche perfetto perfetto ottimo successivamente oggi ho applicato dopo il fondotinta il bronzer oppure sculptor non so e il blush di solito vado di correttore invece oggi ho deciso di applicare il correttore dopo questi due prodottini allora questi prodottini sono di Shane la terra liquida e la seconda è la seconda volta che la ricompro perché mi trovo molto bene con la consistenza il risultato e la colorazione il blush invece è ancora di tanto tempo fa il primo boccettino che ho comprato ancora ce n'è tanto e mi piacciono veramente molto questi due prodottini allora iniziamo dal sculptor vediamo cosa c'è scritto qua si sculpt è un contorno per il contorno del viso un prodottino liquido mi piace molto il fatto che appunto è liquido e non secco allora sulle segome sulle segome frutte nasino nasino e direi basta non ho applicato più da nessuna altre parti allora adesso andiamo di pennellino da sfumatura oggi avevo utilizzato la spugnetta però si sta asciugando quindi vado di pennellino che è il pennellino che appunto utilizzo a volte per sfumare sculptor e blush è pulito ok vado che è divina sino per creare un brown perfetto perfetto ottimo e adesso andiamo di blush che io applico in questo punto in mezzo al zigomo e guancia pic pic faccio due puntini che poi vado a sfumare con il pennellino un po' sul nasino un po' sul nasino pronte e mento allora poi cosa ho applicato oggi? come correttore ho utilizzato un prep primer prep prima della mac nella colorazione non lo so non c'è scritto è un highlighter light boost sarebbe un illuminante correttore che ho utilizzato come base e sopra ci ho applicato un altro correttore per coprire bene e illuminare la zona del sotto gli occhi ok al suo interno c'è questo pennellino andrò ad applicarti proprio in questo punto un po' di prodotto può bastare così ne basta giusto un pochino e te lo sfumo con un pennellino per il correttore sempre preso da Shane mi piace molto ok giusto per illuminare un pochino quella zona e prepararla al correttore che quello che utilizzo da anni che mi piace veramente tanto è questo qui della Clarance Instant Concealer è idratante si stende benissimo e dura anche benissimo nella colorazione 01 mi piace tanto allora questo qui te lo applico con il pennellino nel punto di prima e vado a sfumare un pochino verso questa zona qui per farti un effetto simile a lifting anche se ovviamente ancora non ne hai bisogno sei bellissima però perché no? allora io personalmente questo qui lo utilizzo anche per coprire qualche imperfezione ma tu non avendo nessuna imperfezione non te lo applico ovviamente da nessun'altra parte va benissimo così sotto gli occhi ecco perfetto fissiamo il tutto con la cipria io utilizzo questa cipria della Yves Rocher che è nella colorazione 025 beige che mi sembra che sia la stessa colorazione del fondotinta risulta stessa colorazione però la fondotinta risulta troppo bianco questa va benissimo anche se ormai forse sia un pochino scurita ma vabbè molto carina allora il pennellino che utilizzerò oggi è questo qui grande prendiamo un po' di cipria sbatto via l'eccesso sotto gli occhi sotto gli occhi chiudi lì sopra 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 nasino guanciotte un pochino fronte e mento perfetto io dato che oggi appunto sto registrando un video ovviamente ho applicato più trucco del solito e quindi anche più cipria del solito per fissare il tutto e rendere la pelle più porcellanosa più pelle di porcellana allora step successivo illuminante ti lascerò il link ad alcuni dei prodotti che troverò su Amazon giù in descrizione e mi raccomando se vorrai potrai utilizzare il mio link di affiliazione a Amazon e così potrai offrirmi un caffè ok? mi raccomando guarda giù in descrizione nell'info box questo è un illuminante che ho ormai da un anno e mi fa impazzire mi piace tantissimo è un illuminante del Physicians Formula Butter Highlighter Butter perché ha la consistenza del burro a parte che profuma tantissimo di cocco burroso non lo so, veramente buono ed in più ha questa consistenza piacevolissima burrosissima che io amo basta prenderne un pochino sul dito ti faccio vedere l'effetto che crea questo è un perla quindi una specie di perla ho applicato sulla mano sbagliata perché non so più come girarla però magari si prende a fuoco magari si vede un pochino che no, non si vede una cippa non sto neanche ad illudermi che si vede qualcosa perché non si vede niente è molto naturale ed ha questo questo lucicchio vedete un pochino forse no eccolo vedete come come lucida questa parte qui veramente stupendo infatti quindi potete vederlo anche sul mio zigomo ne basta ne basta molto poco che da questa luce immensa io lo applico proprio in questa maniera qua eccolo qui come è come lucica ed è un lucicchio non di brillantini ma proprio di seta uniforme qualcosa di benestante non lo so un highlighter fatto bene ok? allora e non è pubblicità mi raccomando questo è un consiglio personale magari fosse pubblicità so pubblicizzare bene le cose dai questo è un puntato di fatto soprattutto se mi piace una cosa mi ci metto tutto un po' di nasino solo qua un po' sulla palpebra quello che è rimasto sul dito e sopra al labbro pro perfetto ottimo darà quel tocco di luce e farà un effetto pump alle labbra ok adesso ci siamo soffermati tanto sull'highlighter ma è importante brillare quindi abbiamo fatto bene adesso passiamo alle sopracciglia le sopracciglia io personalmente le sopracciglia le pettino e le fisso semplicemente senza starle a colorare allora non trovo il mio pennellino di sempre forse è andato a nascondersi tra tutte le robe quindi prenderò uno nuovo del set di milioni di pennellini che ho qua dentro ok eccolo qui un pennellino tra l'altro bellissimo con questi glitter rosa al suo interno fa un suono super bellissimo penso che dopo ci farò un video per instagram nei rillo con questo suono e cosa utilizzo per fissare le sopracciglia questo gel per i capelli che adoro è un gel della schwarz go non ho mai saputo leggere questa marca e got 2b è una colla praticamente è molto duraturo l'ho consigliato anche al mio ragazzo che spesso utilizza il gel per i capelli che lui però provandolo ha detto che è troppo forte per me invece è il top dato che a volte mi piace fare l'effetto delle sopracciglia proprio piazzate molto sopra e molto fisse oggi sono un pochino più soft e mi piacciono anche così questo pennellino semplicemente o lo immergo all'interno o un pochino prendo sulle dita spalmo e applico così e dopo pettino oggi ne ho preso un pochino sul dito l'ho massaggiato sull'altro e l'ho proprio applicato in questa maniera sulle sopracciglia e subito dopo finché non si è seccato le ho pettinate dandole la forma che vi piace perfetto ci vuole anche relativamente poco non sto a spendere troppo tempo sulle sopracciglia perché se mi impegno troppo faccio casini invece se la prendo la leggera mi viene un bel lavoro come ho fatto oggi sono soddisfatta del mio trucco e delle mie sopracciglia ok allora passaggio successivo è stato questo eyeliner che ho comprato a proposito poco fa con una mia amica in centro Bologna della Morphe make it big frase un po' discutibile però è fantastico è il primo eyeliner non posso dire che ne ho provati tantissimi di eyeliner però è il primo eyeliner che veramente mi dura per ore ore senza lasciare nessun segno senza sciogliersi cioè come le disegni l'eyeliner sugli occhi ti rimane fino a sera e questa cosa è fantastica è costato 16 euro però è fantastico cioè ne è valsa la pena 16 euro non sono troppissimi ma neanche pochi quindi ragazzi io vi consiglio di fare questa spesa ne vale la pena se siete amanti dell'eyeliner oppure magari se avete una palpita un po' cadente e di solito gli eyeliner che compravate lasciavano il segno questo qui va per voi provatelo veramente della Morphe make it big ok è un eyeliner a pennellino a me piace molto così lo preferisco andiamo? allora intanto che ti disegno l'eyeliner ti spiego come lo faccio allora un occhio fatto mi guardo dritta nello specchio e punto bene la direzione cerco di farla nella direzione dove più o meno mi finisce il sopracciglio perché voglio un effetto lifting quindi traccio la prima riga traccio l'altra verso l'interno punto bene qui l'inizio dell'eyeliner deve essere sottile sottile invisibile e lo riempio di nero a posto è abbastanza semplice perfetto l'eyeliner di oggi era molto semplice molto classica a volte capita che disegno la puntina qui per rendere l'occhio ancora più gattaro però oggi l'ho voluta semplice step successivo è stato il piegaciglia anche se ho fatto la laminazione alle ciglia ormai è passato un pochino di tempo quindi ho voluto uniformare la loro curva e ho utilizzato un piegaciglia della Kiko vieni qua non muoverti brava l'altro occhio uno due tre quattro cinque perfetto ed il mascara ovviamente il mascara di oggi è stato un po' il mio mascara di sempre anzi i mascara perché sono stati tre un po' come sempre diciamo che sono abbastanza fedele ho utilizzato il mascara di Vivian Sapo Cabaret è il mio mascara preferito del momento per ora e ho colorato un pochino tutte le sopperciglia bene bene pettinandole dalla base fino alle porte ok dopo con il mascara della Maybelline Lush Sensational ormai secco quindi privo di praticamente alcun effetto mascara le ho semplicemente pettinate perché mi piace lo scovolino perfetto e da questo punto per dare più effetto black volume ho utilizzato un mascara della L'Oreal Paris Telescopic che per me nonostante il fatto che io l'abbia già aperto un po' di mesi fa è ancora troppo umido ed il pennellino è un po' strano quindi l'utilizzo come passata finale per dare il mega volume perfetto e nel mio caso le ciglia sotto non le tocco perché sono già molto lunghe e voluminose di loro infatti infatti mi ricordo che quando facevo le extension alle ciglia qualcuno mi chiedeva ma l'hai fatta anche nelle ciglia sotto e io no sono le mie naturali oppure quando le ragazze mi mettono il patch sulle ciglia inferiori per fare i trattamenti alle ciglia spesso capita che si stacca ogni due per tre perché sono proprio pelle spesse e forti quindi spingono via il patch insomma battute parti continuiamo prossimo step labbra per oggi cosa ho utilizzato sulle mie labbra prendo i prodotti ed erano tre ovvero due matite ed un rossetto matita numero uno con la quale ho fatto il contorno e ho riempito principalmente le labbra è stata quella di Wicon 56 nude lips adesso andremo a riempire apri un pochino la bocca tutte le labbra e disegnare un bel contorno le labbra sono la mia parte preferita io amo disegnarmi le labbra ok riempiamo tutto perfetto ed adesso soprattutto nelle parti del contorno questi punti qua andrò ad utilizzare una matita della Kiko nella colorazione 531 che sarebbe una specie di marroncino andrò appunto a riempirti i contorni del labbro sopra ed essendo una matita comunque morbida se fai così quello che ti ho disegnato sopra si stampa sotto ed adesso mega mega segreto prendo un pennellino obliquo e vado proprio e vado proprio a disegnarti e sfumarti con il pennellino bene bene il contorno da tutti e quattro lati da tutti e quattro lati uno due tre quattro perfetto adesso riempiamo il vuoto che è rimasto con il matt lip color della Revlon nella colorazione 630 seduction adoro alla follia questo rossetto uno per il profumo due per la consistenza borrosa ma allo stesso tempo matt non secca affatto anzi idrata quasi le labbra lì qua è stupendo penso che ti lascerò il link in descrizione su amazon lo puoi acquistare io l'ho comprato lì ha proprio il profumo del milkshake la fragola non lo so spaziale senti un po' com'è la consistenza stupenda vero? sì bellissimo ce ne ho anche un altro in una colorazione un pochino più barbie che è la 600 devotion HD devotion è bellissima anche questa e mi piace da impazzire ti faccio vedere mamma mia la consistenza magica eccolo guarda qui l'altra colorazione è un pochino più rosa barbie ma è stupenda comunque questa è un po' più nude c'è un peletto qualcosa e questa è un pochino più più rosa quanto profumo mamma mia tantissimo bene e per oggi abbiamo finito il trucco di oggi è stato questo fammi sapere se ti è piaciuto spero di sì e ti ringrazio per essere stata qui con me oggi ho stato ti auguro una buona notte e sogni d'oro dormi bene dormi bene ciao ciao ciao